Leonardo Silva Revisoree Partiamo con un piccolo esercizio. Mettetevi comodi, prendete un bel respiro e chiudete gli occhi. Immaginate di essere fermi al semaforo di una città. Intorno a voi prevalgono il grigio, l'asfalto, le luci artificiali e i rumori del traffico. State respirando ma sentite solo odore di smog. Ora provate ad immaginare di essere in un bosco e di trovarvi davanti al ruscello che lo attraversa. E di ascoltare il canto degli uccelli che lo abitano. Prendete un bel respiro della sua aria ricca di ossigeno e profumata di pino, muschio e fiori. E lentamente tornate qui riaprendo gli occhi. Come vi siete sentiti quando eravate in città? Come vi siete sentiti invece quando eravate nel bosco? La relazione umana con l'ambiente è una costante della nostra vita e determina in modo radicale le nostre funzioni corporee, le nostre emozioni, i nostri pensieri ma anche i nostri comportamenti. Per illustrare la profonda interrelazione umana con l'ambiente vi racconterò la storia della malattia tropicale che mi ha colpita nel 2017, quando vivevo a Bali, in Indonesia. Lì lavoravo a Green School, una scuola meravigliosa, completamente costruita in bambù, dove le aule non hanno mura e il cortile è la giungla circostante. Qui educavamo i giovani green leader del futuro ad entrare in azione per generare un impatto positivo per il pianeta. E lo facevamo completamente con e nella natura, rendendo le montagne, l'oceano e il cielo le nostre aule all'aperto. Sì perché, se vogliamo che l'amore per la natura fiorisca, questo va stimolato ed educato sin dall'infanzia. Improvvisamente sono stata colpita da una malattia che per più di un mese non ha trovato una diagnosi. Durante questo periodo ho vissuto di tutto, da febbre interrotta a 40 gradi, all'essere trasportata in un'aereoambulanza dal mio ospedale di Bali a quello di Singapore, sino allo smettere completamente di camminare e di trovarmi in quel famoso tunnel di luce di passaggio all'aldilà. Dopo un mese finalmente i medici hanno scoperto cosa avessi. Il mio corpo era stato preso da sedio da un parassita tropicale, l'ameba istolitica, un essere che si era moltiplicato nel mio ambiente corporeo risucchiandone tutte le risorse. Ma che senso aveva tutto questo? Durante la mia malattia ho fatto due scoperte che ne hanno cambiato completamente il corso e poi la mia vita. Uno, ciò che è dentro è anche fuori. Ho capito che i luoghi in cui viviamo riflettono chi siamo. Per esempio, avete mai pensato perché abbiamo bisogno di creare e di sentirci a casa? Siamo degli esseri fisici che vivono in un ambiente fisico e la casa è quel luogo dove la nostra psiche sente di aver trovato il proprio contenitore e soddisfa il bisogno psicologico di ancorare la nostra identità. Così, per tre mesi, ho deciso di fare della mia stanza d'ospedale la mia casa, riempendola con tutti quegli elementi che mi ricordavano i miei valori e amori più autentici, come quello per la natura, che sin da piccola riesce a farmi superare le difficoltà della vita, così come è stato anche questa volta. Due, ciò che è fuori è anche dentro. Ho avuto la fortuna di venire ospedalizzata a Singapore, riconosciuta in tutto il mondo per saper offrire ai pazienti numerose opportunità di entrare in contatto con la natura. Dall'ampia finestra della mia stanza d'ospedale regnava la luce del sole tutto il giorno. Materiali e aromi naturali erano distribuiti in tutto l'edificio, così come piante, terrazzi, giardini con pesci e uccelli. Questo approccio di ospedalizzazione è basato sui primi studi pioneristici di psicologia ambientale, che dimostrarono che dopo un intervento chirurgico importante i pazienti guariscono più rapidamente quando esposti alla natura. Così, per esempio, la possibilità per me di vedere delle piante aumentava la velocità della mia guarigione e diminuiva il mio dolore. Ed è per questo che è nata la psicologia ambientale, l'ambito della psicologia di cui mi occupo, che è un campo interdisciplinare basato sull'evidenza scientifica, su come noi trasformiamo il nostro ambiente e come il nostro ambiente a sua volta ci trasforma e ci riflette. E lo fa con lo scopo di studiarne i meccanismi per poi promuovere il nostro benessere, così come quello dell'ambiente in cui viviamo. Durante la mia malattia, in particolare, ho scoperto la ricerca scientifica sulla biofilia. Ma cos'è la biofilia? Bio, vita, filia, amore. La biofilia è il nostro ancestrale amore per la vita e per la natura di cui noi siamo parte. Il termine è stato introdotto dallo psicanalista Eric Fromm nel 64 ed è poi stato ripreso vent'anni dopo dal biologo evoluzionista di Harvard, Wilson. Egli ha definito, nel 2002, la biofilia come la nostra tendenza innata ad essere attratti dalle forme di vita e su tutto ciò che le ricorda, ed in alcune circostanze di affiliarvici emotivamente. Dunque, la biofilia è qualcosa che accomuna tutti noi e proteggere il nostro bisogno e legame con la natura è oggi la mia missione. Sì, perché nei nostri habitat artificiali, ormai molto lontani dalla natura in cui il nostro cervello è stato mappato per centinaia di migliaia di anni, c'è il rischio concreto che la biofilia non riceva più gli stimoli adeguati. Con la mancanza di connessione con la natura, svanisce generazione dopo generazione il ricordo della natura stessa. causando fenomeni come l'amnesia ambientale generazionale, il deficit di natura ed un'intelligenza naturalistica atrofizzata che insieme portano una società biofobica che quindi ha paura di altre forme di vita e all'aggravarsi dell'attuale degrado ambientale di cui noi siamo responsabili. Infatti la biofilia è talmente ovvia che talvolta la dimentichiamo. Durante il lockdown del Covid-19 abbiamo avuto l'opportunità di sperimentare quanto la nostra mente, il nostro corpo e il nostro ambiente siano interconnessi. E voi? Come vi siete sentiti durante questi mesi a casa? Studi condotti durante questo periodo mostrano che chi viveva in ambientazioni con scarsi elementi verdi, qualità dell'aria ed illuminazione naturale ha corso un rischio due volte maggiore di manifestare sintomi di depressione moderata o grave rispetto a coloro che invece godevano di questi elementi che tuttora continuiamo a sottostimare. Non a caso però, in questo periodo, numerosi cittadini si sono mobilitati creando i propri boschi verticali, allestendo finestre, terrazze e balconi con piante e fiori generando così un impatto positivo non solo per se stessi ma anche per gli altri. Sapete che già da prima della pandemia spendiamo il 90% del nostro tempo in ambienti indoor, ovvero chiusi? Sì, siamo una specie indoor. Ma cosa può succedere nel lungo termine? Più della metà della popolazione mondiale vive in zone urbane e crescere in zone urbane raddoppia il rischio di sviluppare disturbi di salute mentale da adulti di cui oggi soffre una persona su quattro. Così come lo stress, considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come l'epidemia del XXI secolo, in quanto affligge 9 persone su 10. Fattori di stress ambientale come la mancanza di natura, l'asfalto, il rumore, le auto e l'inquinamento atmosferico sono insostenibili per la nostra biologia e psicologia e causano per esempio un aumento dei tassi di depressione del 40% e di ansia del 20%. Ma quindi, se riduciamo il nostro contatto con la natura ai sempre più scarsi momenti di tempo libero, come possiamo garantirci il necessario contatto quotidiano con essa? E ancora, se non abbiamo la possibilità di sperimentare il piacere, il benessere e la sicurezza che la natura genera in noi, che cosa ne sarà della nostra biofilia? Quando non possiamo immergerci in natura, la natura può essere portata da noi. Possiamo farlo creando degli ambienti che vanno a stimolare la nostra biofilia attraverso il biophilic design o progettazione biofilica. Lo facciamo seguendo dei precisi schemi di applicazione che risalgono alle ricerche di Steven Kellert, professore emerito di ecologia sociale presso Yale University e pioniere di questa scienza applicata. Egli, infatti, ha scoperto più di 70 caratteristiche nella natura che sono state fondamentali nel corso della nostra evoluzione per garantire la salute, il benessere e la produttività dei nostri antenati. Oggi possiamo portare questi stessi elementi attributi della natura all'interno dei nostri habitat urbani, indoor, artificiali, per godere dei medesimi benefici. Infatti, la semplice azione di vedere, odorare, gustare, udire o toccare la natura innesca nel nostro cervello, dopo pochissimi secondi, le cosiddette esperienze rigenerative che sono in grado di ricaricare le nostre energie psicofisiche, così come di ridurre lo stress fino al 60%. Possiamo connetterci con la natura anche stando in casa, per esempio privilegiando l'illuminazione e la ventilazione naturale, così come le viste sul verde e sul cielo, scegliendo materiali, aromi e colori naturali per i nostri arredi e finiture, portando l'esterno all'interno con profumi e suoni della natura. Il biophilic design può essere portato anche in azienda, traducendosi in un aumento della produttività, della creatività e del benessere dei lavoratori. Non a caso, tra le aziende più innovative e tecnologiche al mondo, hanno investito proprio nel biophilic design per connettere i propri dipendenti alla natura. Così come istituzioni educative della portata di Harvard e Stanford hanno scelto il biophilic design per gli spazi dei propri studenti, aumentandone così la velocità di apprendimento del 30%, così come i risultati accademici. Ma quindi, se è possibile sperimentare la biofilia stando in casa, in ufficio o a scuola, come vi sentireste se poteste godere di questi stessi benefici semplicemente camminando per la vostra città? Alcune città hanno accolto la sfida dell'urbanizzazione come un invito alla propria evoluzione naturale, diventando città biofiliche. La Biophilic Cities Network, di cui io faccio parte, è una rete internazionale di città focalizzata sull'aumento della connessione tra persone e natura e tra persone e persone all'interno dell'abitat urbano. Lo fanno in modo consapevole ponendo la natura al centro della propria progettazione e governance, creando opportunità per i cittadini di conoscere e connettersi con la natura all'interno dei propri spazi urbani. L'interazione sociale in natura ha straordinari benefici su tutta la comunità e non è un caso che città come Singapore ed Oslo, dove ho avuto l'opportunità di fare ricerca, sono città inclusive, sicure e resilienti. Quello che sentite è il paesaggio sonoro di San Francisco, una delle città partner del Biophilic Cities Network. Chissà quale sarà la prima città biophilica d'Italia. Magari una città che ha ospitato, sta ospitando o ospiterà un TEDx come questo. Qualunque sia la risposta, il mio impegno è quello di collaborare con gli stakeholder affinché questo avvenga. I nostri predecessori, gli antichi romani, dicevano mente sana in un corpo sano. Ed è oggi comune prenderci cura della nostra salute fisica per tutelare quella mentale. Oggi sappiamo anche che per una mente sana è necessario un ambiente sano che sia in grado di connetterci con la natura. Se tutti abbiamo cura del nostro ambiente, esso avrà cura di noi. Ogni giorno abbiamo l'opportunità di scegliere ciò che vogliamo vedere di più nella nostra vita e ciò che non vogliamo più vedere nella nostra vita e nel nostro ambiente. Il mio invito è quello di cominciare a creare una nuova società partendo da dentro ognuno di noi e di coltivare la connessione con la natura fuori di noi. Ciò che è dentro è anche fuori e ciò che è fuori è anche dentro. Grazie. 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 Grazie.